Ciao amici, non mi sono dimenticato di parlarvi della scelta che ho fatto sulla corona non circolare per questa stagione in particolare ho scelto Metal System, l'avete vista non ve ne parlerò in questo video, non ancora almeno però ho rispolverato tutti i test che avevamo fatto nel 2016 pensate che avevamo fatto 17 giornate di test su questa corona tra gennaio e aprile 2016 in questo video però non vi voglio parlare delle caratteristiche per le quali ho scelto di utilizzarla ma vi voglio parlare insomma di quanto eravamo, mettevamo in dubbio qualsiasi cosa di quanto è stata studiata nei minimi dettagli qualsiasi cosa in particolare una caratteristica importantissima se non la più importante per le corone non circolari è la posizione del raggio massimo della corona in funzione della pedivella cioè l'angolo che forma il raggio massimo rispetto alla pedivella ovvero questo angolo qua ok? che lì va a definire i vantaggi e svantaggi della corona e come funziona la corona stessa e io all'epoca misi in dubbio il fatto che questo angolo doveva essere uguale tra la bici da strada e la mountain bike allora ho pensato che cosa cambia poi tra la bici da strada e la mountain bike e quindi sono giunto alle conclusioni che vi sto per mostrare vabbè in questa dimostrazione parto da delle definizioni Z1 è il numero di denti corona, Z2 è il numero di denti pignoni, rapporto di trasmissione Z1 su Z2 cose varie anche in base poi alla pendenza della strada perché poi andrò a capire come dovrebbe essere questo angolo ottimale rispetto anche alla pendenza della strada cosa cambia con i rapporti quindi Z1 e Z2 come vanno a modificare questo angolo ottimale tra la pedivella e il raggio massimo della corona come vedete qua la linea della catena va a influenzare questo angolo alfa che poi se ne deve tenere a conto vi andrò a mostrare come poi qua come vi dicevo definisco l'angolo phi quell'angolo che vi dicevo tra la pedivella e l'angolo massimo della corona qua c'è una formula che utilizzerò più avanti che va a calcolare la potenza in funzione della velocità in base a coefficiente d'attrito, coefficiente aerodinamico, pendenza, massa del ciclista bla 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 partendo da delle condizioni che sono reputate ottimali per la bici della strada con magari il numero di denti della corona da 48 in pianura quindi beta uguale a 0% con una certa opinione in 14 denti ovviamente definisco questo angolo alfa che è praticamente l'angolo rispetto all'orizzontale della catena ovvero dove va a ingaggiare la corona la catena vabbè qua lasciamo stare quindi qua vedete la linea della catena come va appunto questo angolo alfa alfa lo definisco positivo in senso anti-orario e già qua raggiungo una conclusione che rispetto a questo angolo alfa il fi ottimale l'angolo ottimale raggio massimo vi ricordo in funzione della pedivella deve tenerne a conto quindi fi ottimale deve essere fi meno questo delta alfa quindi alfa è funzione di z1 z2 e dall'interass mozzo movimento centrale e quindi se io ho un z parto da 74 gradi di fi ottimale teorico in base ai denti e partivo da 14 denti vi ricordo al posteriore deve andare a tenerne a conto del rapporto che utilizzo con z2 maggiori deve esserci un maggiore angolo tra pedivella e raggio massimo qua ad esempio esempi quindi bici a strada cambiando solo z1 e mantenendo costante il rapporto di trasmissione e quindi la velocità a parità di potenza e a parità di pendenza della strada il mountain bike si dovrebbe andare a fi ottimali maggiori ma non è l'unico aspetto da considerare ho considerato anche la pendenza della strada quindi orizzontale vedete perpendicolare rispetto alla direzione della forza di gravità quindi orizzontale non della bici ma rispetto alla forza di gravità beta è la pendenza della strada man mano aumenta la pendenza della strada il fi dovrebbe ridursi eccolo qua e sono dato quindi beta aumenta il fi ottimale deve ridursi quindi c'è un segno meno fortunatamente qua giustamente ho detto che aumenta la pendenza della strada però io vado con pignoni più agili giustamente cambiano anche i pignoni quindi fortunatamente si va ad attenuare l'effetto pendenza della strada va ad attenuare l'effetto cambio di rapporto o viceversa e questa è una fortuna per chi sceglie il corona e non circolai qua un'altra differenza mountain bike e bici la strada che è l'altezza del movimento centrale che qua ho quindi il risultato è un 4 gradi di differenza tra movimenti centrali cioè considerando la differenza di altezza del movimento centrale si ripercuota su un 4 gradi del fi ottimale è come andarsi diciamo a pendenze già più elevate qua lasciamo stare un attimo andiamo perché questo qua ecco passiamo all'esempio mountain bike e qua si vede tutta la mia malattia mentale perché sono andato a ipotizzare una potenza costante un certo peso del ciclista un certo coefficiente aerodinamico attrito bla 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 un certo RPM una certa cadenza di pedalata e una certa corona davanti certo interasce movimento centrale mozza ruota sviluppo metrico bla 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 e qua sono andato praticamente a valutare come l'angolo ottimale corona pedivella andava a cambiare rispetto alla pendenza della strada ipotizzando che io andavo a stesse RPM e quindi andavo a cambiare il rapporto e quindi passavo da un 10 per esempio fino a la curva rossa indica il rapporto che utilizzavo in base alla pendenza della strada ovviamente più la pendenza aumenta più andavo a rapporti Z2 maggiori all'epoca utilizzavo un 11 rapporti 1042 quindi andavo fino al 20% 20% utilizzavo un 42 qua vedete che fortunatamente come vi dicevo prima l'effetto pendenza della strada va ad attenuare l'effetto rapporto e quindi l'angolo ottimale si riduceva ma di poco andava da 74 a 72 gradi 71 e poi qua quando non c'erano più rapporti la pendenza della strada aumentava così tanto che la pendenza della strada andava diciamo influire tantissimo su questo fio ottimale diciamo che sul 30% avresti dovuto andare con un'altra corona praticamente queste qua sono le considerazioni che vi ho appena detto vedete l'effetto della pendenza della strada sull'angolo ottimale invece è predominante rilevante su tratti molto ripidi laddove si deve ridurre la frequenza di pedalata a fronte dei rapporti limitati tra bravo qua sono andato a considerare anche l'arretramento sella cioè come va a influire uno che pedala più indietro con la sella rispetto a uno che pedala con la sella un po' più avanti considerando la lunghezza della tibia quindi avanzavo il ginocchio cambiava questo angolo che doveva andare a cambiare questo angolo quindi della pedivella il fio ottimale andava a ridursi vedete a 74 gradi tornava questo fio ottimale con l'avanzare la posizione del ginocchio e quindi la posizione in sella quindi passando un fio teorico sempre a 74 gradi andava a ridursi ma fortunatamente di pochissimo addirittura ipotizzando che quando ci si alza in piedi che la posizione diciamo più avanzata l'angolo doveva cambiare di 2 gradi al massimo quindi pochissimo fortunatamente questa è la conclusione quindi partendo sempre visita strada ottimale questo fio di 74 gradi in quelle condizioni cosa cambia in mountain bike diverso di livello movimento centrale mozzo quindi meno 4 gradi la parità di rapporti di trasmissione considerando per i due circa più 2 gradi salita mediamente ripida o meno 2 gradi come vi avevo fatto vedere qua quindi mediamente ripida siamo da 74 siamo passati a 72 e tendenza a pedalare con Z2 maggiore per minore scorrevolezza dei terreni praticamente io ho parità di potenza vado più piano in mountain bike quindi vado a rapporti un pochettino più agili al posteriore e questo è circa un grado ogni 4 denti in più ipotizziamo più un grado più due gradi quindi meno 4 più 2 fa meno 2 meno 2 fa meno 4 meno 4 più 1 infatti meno 3 meno 3 gradi meno 4 gradi su salite poco mediamente ripide meno 5 6 gradi per percorsi con salite molto ripide basta con tutto ciò per concludere che se io diciamo ho 74 gradi su strada di quell'angolo dovrei andare a 70 gradi o 71 72 gradi per una corona da mountain bike però che roba ma che sega mentale che ci facevamo no Grazie.